Grande fratello. Malgioglio contro Danilo Aquino dopo le frasi omofobe La casa del grande fratello ha riaperto i battenti da un giorno solo e già è tempo di concorrenti razzisti e omofobi. . Danilo Aquino è un ragazzo romano dalla battuta sempre pronta e ha da subito conquistato i social, e i telespettatori da casa per la sua simpatia, ma sul suo profilo facevo off non è così tanto simpatico come sembra. . Sulla sua bacheca sono stati rimossi dei post finiti nella bufera nelle ultime ore, il tecnico di elettrodomestici, ha condiviso un video di Valentino scrivendo. A me fa schifo proprio. . Il romano ha anche definito strani gli omosessuali e ha tirato in ballo Tiziano Ferro. . Anche in questo caso molti hanno notato dell'omofobia del concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello nei confronti di Tiziano dichiaratamente gay. . Cristiano Malgioglio ha fatto sapere sui social che martedì prossimo si scaglierà contro Danilo. Cristiano Malgioglio contro l'omofobia del concorrente del GF 15 . Danilo attraverso i suoi profili social Cristiano Malgioglio ha annunciato che la settimana prossima si scatenerà contro Danilo Aquino, il concorrente del GF 15. . Il motivo? È tutto il giorno che circolano in rete alcuni posts creenciottati dal profilo facebolot di Danilo, puntualmente rimossi dopo la polemica scoppiata in rete. . Sul suo profilo è stato possibile leggere delle frasi piuttosto deludenti. Danilo Aquino è omofobo e razzista. Sembrerebbe proprio di sì. . Il 31enne tecnico di elettrodomestici romano si è scagliato su Facebook contro un ragazzo omosessuale, Valentino, l'icona trash del web che si definisce un cantante rap e anche un ballerino con una carrellata di coreografie, scrivendo che gli fa schifo. . È stato portato alla luce anche un post in cui il concorrente del GF 15 Danilo Aquino si scaglia contro le persone di colore, in particolare contro la comunità di senegalesi, scrivendo che dovrebbero tornare tutti al loro paese. . Insomma, tutti questi post hanno fatto il giro dei social scatenando l'ira di molti utenti. . Il rete si chiede addirittura la squalifica. Nel 2018 non si possono accettare più questi comportamenti. . Nella seconda puntata del Grande Fratello sicuramente Ladurso e Cristiano Malgioglio affronteranno l'argomento. Danilo Aquino se ne uscirà con la frase scontata Ho tanti amici gay e non sono omofobo. Si accettano scommesse. . Chissà cosa ne penseranno i suoi compagni d'avventura Angelo Sanzio, il quen italiano, Bayo Damedia, in arte Dragqueen Obama Tequeen Al Mucca assassina di Roma, e Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, omosessuali dichiarati della casa. .